Come vi ho pronunciato prima, volevo vedere l'ultima categoria di equazioni in seno e coseno che non si possono definire omogenee perché presentano come quarto termine una costante quindi questa non è un'equazione omogenea di secondo grado ho scritto qui il titolo perché stiamo parlando, questa qui si andrà a ricondurre all'equazione omogenea di secondo grado ma questa non è un'equazione omogenea di secondo grado perché abbiamo il termine noto vi ricordo che l'equazione è omogenea quando i gradi dei termini sono tutti quanti dello stesso grado quindi questa ovviamente non è, non vorrei che qualcuno mi scrivesse, non è omogenea di secondo grado ma la possiamo ricondurre all'omogenea di secondo grado perché con questo è scamottaggio con questo è scamottaggio d'argembria quindi sfruttando le formule goniometiche che abbiamo imparato scrivendo questo D, come? Beh, questo è un D per 1 1 sappiamo che sen quadro x più cos quadro x per la prima regola fondamentale, per la prima relazione fondamentale della goniometria quindi possiamo trasformare questa in la seguente equazione a sen quadro x più B sen x cos x più C cos quadro x che è un'equazione goniometrica omogenea di secondo grado in sen coseno più D che moltiplica cos quadro x più sen quadro x vedete? E ovviamente poi al prossimo passaggio lo scrivo in alto avrò A sen quadro x lo scrivo un pochino più in basso ma troppo in alto poi vengono le vertigini A sen quadro x più B sen x cos x più C cos quadro x più D cos quadro x più D sen quadro x uguale a 0 ed è questa è un'equazione omogenea del secondo grado in seno e coseno quindi in realtà questa qua è anch'essa un'equazione omogenea non così a prima vista ma la si può ricondurre appunto ad un'omogenea come al solito per concludere facciamo un esempio ovviamente la risoluzione è la stessa si andrà a dividere tutti i membri, i due membri dell'equazione per cos quadro x supposto coseno di x diverso da 0 quindi supponendo x diverso da piego mezzi più K pi greco supponiamo di voler risolvere per esempio questa radice quadrata di 3 che moltiplica cos quadro x meno seno di x coseno di x uguale radice quadrata di 3 allora ovviamente questa è completa possono mancare dei termini qui come vedete mancano ora vi ricordo che il nostro caso iniziale è questo qua quindi c'è D poi dopo io faccio quell'escamotage ma io inizio così come potete vedere in questa cosa abbiamo che C è radice di 3 A è 0 B vale meno 1 D vale meno radice di 3 perché questo lo porto a sinistra e varrebbe meno radice di 3 quindi ripeto lo stesso procedimento fatto negli esistri precedenti cioè anche in questo caso vado a scrivere quello come allora riscrivo radice di 3 cos quadro x applico quindi quel metodo che ho mostrato poco fa oh questo è meno radice di 3 uguale a 0 quindi scrivo meno radice di 3 cos quadro x meno radice di 3 se il quadro x uguale a 0 ripeto ho scritto radice di 3 come radice di 3 che moltiplica cos quadro x più se il quadro x ma radice di 3 che moltiplica cos quadro x più se il quadro x è radice di 3 cos quadro più radice di 3 se il quadro portati a sinistra ovviamente c'è da meno radice di 3 cos quadro meno radice di 3 se il quadro Ma adesso che succede? Succede che questi due si eliminano, vedete? E allora cosa ottengo? Ottengo un'omogenea di secondo grado, ma mancante questa volta tensioni di C. Sono tornato a nuovamente un'omogenea, senza questo, e senza C. C è 0 questa volta, A vale meno radice di 3 e B vale sempre meno 1. Quindi cosa faccio? Visto che abbiamo due meno, raccolgo un meno se di X ha fatto il comune, per scrivere un cos X più radice di 3 seno di X, tutto uguale a 0. Vi piace? Bellissimo, le equazioni omogenee sono le più belle di tutte. Le più belle. A questo punto applico la legge di annullamento del prodotto, ponendosi su un fattore uguale a 0, e scrivendo se in X uguale a 0, equazioni coniometriche elementare, seno vale 0, ricordo a 0, poi a pi greco, e poi a 2 pi greco. Quindi vale 0, sicuramente a 0, più K pi greco però, perché poi rivale 0 dopo un mezzo giro, a pi greco. Quindi la soluzione è X uguale a K pi greco, perché 0 più K pi greco è niente più K pi greco, quindi K pi greco. Quindi questa è sicuramente una soluzione. L'altra soluzione è quella della seconda equazione che vado a porre uguale a 0, che è nuovamente un'equazione lineare insieme a cos 0, che significa sempre X diverso da P mezzi più K pi greco. Dividiamo entrambi i membri per cos X, ottenendo un radice quadrata di 3, seno di X, fratto coseno di X, uguale a meno cos X su cos X che è meno 1. Se il cos X è sempre tangente X per la seconda relazione fondamentale della coniometria, quindi otteniamo in definitiva che radice di 3 tangente X è uguale a meno 1. A questo punto, dividendo entrambi i membri per radice quadrata di 3, arriviamo alla nostra equazione coniometrica elementare tangente X uguale a C, del tipo in questo caso, tangente X uguale a meno 1 fratto radice di 3, che vi ricordo, razionalizzando, si può scrivere come meno radice di 3 su 3. Vi ricordo che la tangente vale radice di 3 su 3 nel primo quadrante a pi greco sesti. Poi nel secondo quadrante, attenzione, nel secondo quadrante, varrà radice di 3 su 3 ma con segno meno, ovviamente a 5 pi greco sesti. Ed è questa la soluzione, quindi. X uguale 5 pi greco sesti. Ovviamente poi tornerà a valere ancora meno radice di 3 su 3 nel quarto quadrante, ovvero a 11 pi greco sesti. Ma non ci interessa più perché la tangente è una funzione periodica di periodo pi greco. Spero che spiegando così le cose capiate il motivo del k pi greco e del k pi greco, che molti studenti non capiscono. Non magari per colpa loro, perché magari non li lo spiegano bene. Ripeto, basta vedere quante volte quella funzione assume quel valore nel periodo 0,2 pi greco. Tenendo per esempio che la tangente è una funzione periodica di periodo pi greco. Quindi quante volte assume questo valore ha nel periodo 0 pi greco. Ecco qua, l'unione di queste due soluzioni, che quindi sono x uguale k pi greco, unione x uguale 5 pi greco sesti più k pi greco, ci fornisce la soluzione del nostro esempio proposto che ci serve a spiegare l'argomento che abbiamo trattato. Bene, abbiamo concluso davvero, abbiamo finito questa lunga carrellata di spiegazione sulle equazioni goniometriche elementari, e non abbiamo visto, dal prossimo video in poi, io vi saluto, dal prossimo video in poi iniziamo a parlare, inizieremo a parlare, inizieremo a vedere un po' di esercizi. Nell'ultima parte poi, dopo aver visto una bella carrellata di equazioni, vedremo anche un po' di identità goniometriche, che sono sempre equazioni. Di soluzione, vedremo come al solito un po' di esercizi citati dal testo degli autori di Bergamini di Fone Barozzi, così per cimentare ancora meglio, per rendere più forti le conoscenze sulle equazioni goniometriche. Finito poi l'argomento, ve lo ricordo, parleremo di sistemi, e poi inizieremo finalmente le disequazioni goniometriche. Questo è il menu dei prossimi tempi, per chi guarda, per chi segue tutti i giorni il canale, o comunque per chi sta seguendo questi video perché vuole prepararsi per i compiti in classe, oppure vuole prepararsi da sé per gli affari suoi. Vi saluto, alla prossima, prossimo video, ciao!